ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video a tema Genshin Impact oggi siamo a Polaino Villette io sono in tiro per l'occasione mi sono vestita da avvocata non sia mai che mi voglia riassumere all'interno della della corte di Fontaine e niente abbiamo fatto un bel po' di pulso di account degli altri non vi svelo come sono andate e non so nemmeno se saranno un singolo video con le mie pulle uno loro uno tutto insieme credo che saranno due video perché tanta roba e niente adesso siamo alle mie io ho il 50 e 50 e sono a pt abbastanza alto mentre nel banner armi sono a pt zero mi voglio tipo lanciare perché l'ultimo banner armi se vi ricordate che quello in linee non è andato bene ma ad ogni modo come dico sempre venite in live sul sito viola a godervi le pulle perché chi viene live sul sito viola si becca tutti i retroscene momenti gag che qui purtroppo ne vide non vi posso mettere se no verrebbe un video di quattro ore perché letteralmente siamo in live da cinque ore quasi quasi cinque ore quattro ore di pulle quindi signori miei venite live sul sito viola ma comunque iscrivetevi qua passate su instagram su tutti i social e vi auguro buona visione pronti ok 42 andiamo a 52 allora sono tutti i quattro stelle sono tutti c6 quindi sono tutti star glitter che fanno comodo visto che adesso arriva anche l'arcon arrivano tutti quei personaggi che appunto vogliamo un po' tutti quindi vanno benissimo i quattro stelle questo banner off banner mi manca da costellare vabbè e kirara e freminet proprio non li ho mentre da costellare mi manca cave mi manca mica e oddio c'è qualcun altro no perché farusan l'ho finita mi sembra cave mica e basta credo 62 4 stelle ok bene a inizio multi può essere doppio che fa solo che è comodo ah è linette raga è linette mi manca anche linette sì c'è nel senso non è che mi manca ce l'ho c1 quindi vabbè costellazione di linette come è uscita prima ad albi potrebbe essere interessante 72 e poi due singole adesso e faccio la multi per vedere se esce il doppio ma basterebbe vincerlo allora bene inizio multi adesso un altro che prima me ne dato soltanto uno tirchiaccio di un gioco dammi il mio secondo quattro stelle in molti vediamo no vabbè vuol dire che adesso mi esce nelle singole allora 73 eccolo avevo detto ora già arrivano le singole per forza ottimo e 74 non uscire ora non uscire ora no ok ci siamo è il momento ragazzi multi del 5 stelle pt 75 ci siamo 75 76 77 78 79 80 81 84 si 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 lasci uno di tiki va benissimo benissimo si 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 questa la volevo un sacco da quanto è che video volo lascer uno di tignari tanto adesso lo prendo garantito però questa la volevo da tantissimo si 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 raga teignari non mi esce dal giorno in cui appunto è uscito che gioia raga vediamo pt13 quattro stelle se mi dai magari una copia di Linette no di Chirara più che altro vediamo di Chirara di Feminette ma anche di Linette ce l'ho C1 Linette la trovo adorabile quindi mi farebbe comodo ok 23 4 stelle sempre inizio multi sempre inizio multi ce l'abbiamo eh ma poi Linette è molto carina poi col fatto che ho buildato bene Linette io ci sto usando caso insieme e probabilmente il supporto animo migliore di caso non esiste anche per la nostra per il nostro Linette però vorrei giocarli insieme i gemelli cioè capite sarebbe bello averli lì nello stesso team oh doppio 4 stelle sono un po' di pull è principalmente per quello ok 33 Gesù voglimi bene no ma sono stata una bambina buona però un sacco di un sacco di 4 stelle inizio ti multi e quindi potrebbe essere un altro doppio anche qua bello era proprio il 4 stelle che volevo 43 ok let's see per quanto riguarda il banner armi vi dico io sarei contenta di fare due piti cioè uno dice ma sei scema eh lo so però fare due piti vuol dire prendere una oma e poi magari l'arma nel senso se mi esce la oma sarei contenta di fare due piti per intendersi 53 in quel caso sarei contenta se il primo piti è la oma e il secondo è l'arma sua sapete che ho un personaggio che sta aspettando la sua oma lo sapete benissimo e c'è un personaggio che mi dice per favore mi dai la oma e uno dirà bah sarà zongli sarà shao sarà raiden no è utao perché la sua oma è stata passata e data in eredità alla nostra yao yao e quindi di conseguenza utao vorrebbe una oma per sé bella questa multi con tutti questi 4 stelle 2 eh nulla di che però insomma finito il piti buona easy a sto punto arriviamo al soft e dammelo doppio vai almeno molto bene molto bene vediamo 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 ok salve mi sono fatta tipo penso che con queste molte siamo fatte qualcosa tipo boh io penso si parli letteralmente di un paio di multi quasi tipo penso di sì ok let's go 73 ok una singola poi una singola e poi multi che e poi si va a cercare l'arma di fish di là che è quella che voglio più di tutti l'arma di fish ok ok singola una singola che è una dragon's pain mi sistemo la cravattina portiamoci a casa il nostro signore possibilmente accompagnato da un altro signore o se no da un garantito 75 76 77 guardate uguali tutti e due con la cravatta tutti in posa eccolo facciamo fotina molto bene molto molto bene vediamo se è solo 1 2 3 4 o tutto uguale 5 6 e abbiamo l'ultima shinkyu c'è 3 armi a 4 stelle che voglio il mondo mi venga incontro tipo velt esatto mi venga incontro e mi dia una di queste armi una questo italian ok allora ecco cosa ho detto allora gentilmente vorrei una delle armi che non ho Pavonius Codex thank you thank you pandora letteralmente io vi giuro io vi giuro non ce l'ho ok 20 la cosa buona è che qui il pit è un po' più basso quindi almeno quello ok vediamo vediamo se qua il 4 stelle è qualcosa di buono please e ne mi incontro non ci credo no raga ma che cos'è il circo io mi sento malissimo avete bisogno di un Pavonius volete un Pavonius Codex ce l'ho io ve lo ve lo passo basta chiedere ci preoccupate ci penso io ci penso io Pavonius Codex here don't worry qui per voi prendete prendete e mangiatene tutti per citare ok no non li mangiate libri la carta fa male non la sappiamo digerire noi perché la cellulosa non la possiamo digerire purtroppo ragazzi non abbiamo gli enzimi per digerirla ok quindi non mangiate la carta let's go andiamo pt30 non è mai quello giusto non è mai quello giusto non lo è mai non lo è mai però grazie grazie il mondo è un posto migliore ragazzi è quel momento 33 34 35 36 37 38 l'ultima 39 39 per forza è l'ultima 40 yes meno male il pt veloce siamo a pt7 avete detto a tre singole tre singole siamo a pt7 ci togliamo il pensiero allora io faccio tre multi kirara che cazzo vabbè uè faccio tre multi bene che vada esce bene che vada garantito a pt basso male che vada che non è male mi sono alzata il pt3 e molti dai siamo a pt10 ci portiamo a pt40 che è dove ero all'inizio e fine allora pt questo momento siamo a pt10 siamo a pt20 io vorrei il 5 stelle no va bene qui c'è pure il 4 stelle garantito non c'è nemmeno qui benissimo a dire che cosa sarà perché abbiamo il garantito cosa sarà che sarà vorrebbe we be we be un po' me la so più chizune grazie per il follow e tommaso grazie per il follow qua ecco lui si tommaso cioè sto già pullando per me da un po' quindi in realtà ho quasi finito molto bene andiamo a 30 4 stelle c'ho in testa la musica di Indiana Jones non so perché ma letteralmente in testa Indiana Jones in questo momento Fiscio non ti arrabbiare con me non ti ho trovato l'arma lo so già da me sono già abbastanza disperata però siete carini insieme grazie GG ok ultima multi qua basta basta siamo siamo done siamo done anche se potrei convertire con gli style glitter le tre multi mancanti che oggi ne ho fatti tanti e raggiungere il pisi cerchiamo l'arma di Fiscio il prima facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così io devo tirare delle singole nel banner armi facciamo un gioco io devo trovare tirare delle singole nel banner armi fatemi io tanto qua ce ne ho tantissimi li sto tenendo a parte per quando vorrò fare guardate ne ho 31 è perfetto allora io devo tirare delle singole qua fatemi mettere nel caso il cambio nel dubbio io devo mettere delle singole qua se qua se qua mi esce come quattro stelle l'arco di Fiscio tiro quelle tre multi con gli style glitter delle singole guarda subito quattro stelle sei l'arco di Fiscio sei cave bene perché la costellazione mi mancava però non mi sembra un arco alla fine se lo guardate bene ce l'ha un po' la forma dell'arco guardate tutto dritto qui e poi braccino e gambina fanno l'arco teso ragazzi è un arco davvero è un arco guardate no vabbè no no ma vi rendete conto cosa abbiamo appena scoperto è oggettivamente un arco niente il destino ha scelto no il destino ha scelto no magari Hirara mi ricordo è uscita Ningguang no partenze ecco nel senso ce vi rendete conto è uscito l'arco adesso ma non è quello che volevamo è uscita anche Fiscio l'arco di Fiscio c'era presa per il culo questa arco e poi Fiscio per dire l'arco di Fiscio Marti devi tirare adesso doppia Fiscio oppure rincara la dose con il doppia Fiscio per dire sì è proprio di Fiscio non è di qualcun altro Marti la devi tirare perché guarda un po' guarda un po' andiamo andiamo disgraziati che non siete altro meglio prima del soft prima era destino va bene anche se lo perdiamo va bene però va bene prima del soft va bene lo posso accettare stavamo andando a 60 siamo a pt50 va benissimo ok così se abbiamo il garantito abbiamo il garantito se abbiamo vinto abbiamo vinto se dovessero farmi contenta gin c2 nel caso lo perdo ma va bene tutto perché un garantito visto che arriva non si rifiuta mai quindi questo è 51 52 53 54 55 va bene ma oggi comunque veramente il circo io non mi capacito però va bene 56 57 58 59 l'ultima 60 c1 ok il mio adesso è fortissimo adi si si Sìììì!